La Russia sta attuando una strategia mediatica per dividere l'Europa. È quello che si legge nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo mercoledì in cui si accusa Mosca di manipolare mezzi di comunicazione per distruggere i valori europei. Una strategia universale volta a indebolire tutto l'Occidente. I media russi, le televisioni e le agenzie di stampa cercano di influenzare il pubblico in Europa, spiega questo deputato di centro-sinistra. Stanno cercando di dividere l'Unione europea e gli Stati Uniti e di sminuire tutto quello che stanno facendo. La strategia punterebbe a screditare le istituzioni europee per favorire l'ascesa dei movimenti populisti ed euroscettici. Dal Cremlino, un Putin impassibile risponde alle accuse. Stiamo assistendo ad un degrado, nel senso politico del termine, della democrazia nei paesi occidentali, in questo caso a livello del Parlamento europeo. La scintilla che ha acceso le tensioni tra Europa e Russia risale al 2014. L'annessione illegale della Crimea da parte del governo di Mosca è stata condannata e sanzionata economicamente dai leader europei, ma ha reso le relazioni tra i due blocchi più difficili che mai.